Io non sono pauroso dei cambiamenti, quindi il fatto che cambi e stia cambiando in maniera così veloce mi fa anche per certi versi piacere. Poi il mio compito è anche di vedere se ci sono degli effetti collaterali, se ci sono qualche cosa che abbiamo frettolosamente archiviato. Allora bisogna rivedere, penso per esempio, il rapporto tra l'educazione e le tecnologie digitali. Questa è una cosa in cui non va bene dire o sì o no, va bene ragionarci.